Bentornati sul canale Amo gli italiani. Oggi con le ultime notizie come Amici di Maria De Filippi, protagonista del famoso talent di Canale 5 finisce nei guai, scatta l'arresto per lui. I fan sono rimasti senza parole e la stessa moglie di Maurizio Costanzo è allivita. Ecco che cosa è successo, Amici, volto noto del talent di Canale 5, Amici di Maria De Filippi, finisce in carcere e scatta l'arresto per lui. Scandalo senza precedenti nella famosa trasmissione Mediaset. E chi se lo sarebbe mai immaginato, protagonista di Amici nell'occhio del ciclone. Arrivano notizie che lasciano i fan della trasmissione di Maria De Filippi, Amici, a bocca aperta. Un protagonista del famoso talent di Canale 5 finisce in carcere, scatta l'arresto per lui. Che cosa è successo, e soprattutto, chi è il volto noto del programma Mariano protagonista di questa brutta disavventura. Amici al resto, l'accademia più famosa d'Italia è il luogo ambito da giovani talenti che vogliono sfondare nel mondo della musica e della danza. La moglie di Maurizio Costanzo mette a disposizione dei fortunati allievi non soltanto una struttura in cui sentirsi a casa ma anche una squadra di professori pronti a impartire loro segreti e trucchetti del mestiere. Fuori però dal talent, talvolta la musica e l'arte vengono messe da parte e i protagonisti della scuola più famosa d'Italia diventano famosi per drammi e scandali. Avete visto che cosa è successo al famosissimo volto del programma Mariano? Proprio accusato di fatti gravissimi. Arriva la polizia, chi è il protagonista del talent braccato dalla polizia? Famosissimo protagonista del talent di Canale 5, Amici di Maria De Filippi, finisce nei guai. Proprio lui braccato dalle forze dell'ordine, arriva la denuncia inaspettata. Stiamo parlando di Ricky Martin, Ricky Martin, il famoso artista di fama internazionale è stato direttore artistico di Amici 2019. Bello e amato da tutti, ma soprattutto dalla conduttrice, la moglie di Maurizio Costanzo lo ha corteggiato per diverso tempo per averlo nella sua trasmissione. Ebbene, proprio lui oggi è protagonista di uno scandalo senza precedenti, Ricky Martin è stato denunciato per violenza domestica nei confronti di Dennis Sanchez Martin, figlio della sua sorellastra Vanessa e dunque nipote acquisito, con il quale avrebbe intrapreso una relazione extra coniugale. A parlare è proprio il nipote che ha dichiarato al tribunale e alle forze dell'ordine di aver avuto una relazione segreta con lo zio che è sposato con Giovanni Josef ed è padre di due figli. La loro storia sarebbe terminata solo due mesi fa ma il cantante non avrebbe accettato però la fine di questa relazione e avrebbe cominciato a stalkerizzarlo riempiendolo di telefonate e pedinandolo addirittura fin sotto casa. Il ragazzo avrebbe dunque deciso, impaurito, di sporgere la denuncia ma non è tutto. Dennis Sanchez Martin ha fatto anche delle dichiarazioni piuttosto sconcertanti. Il giovane ha dichiarato che lo zio fa uso di stupefacenti, ragione per cui perde spesso il controllo. Ricky Martin ha ricevuto per il momento un ordine restrittivo e ha tenuto a smentire le accuse definendole completamente false. Il cantante si dice pronto a difendersi in aula di tribunale e ad archiviare definitivamente questa questione che sta gettando infamia sulla sua vita e sulla sua carriera. Arriva come un fulmine a ciel sereno questa notizia che lascia davvero tutti a bocca aperta, nessuno si sarebbe mai aspettato che uno dei cantanti più amati e famosi del mondo potesse essere capace di compiere un'azione del genere. Il mondo è sconcertato, grazie per aver guardato l'intero video. Cosa ne pensi delle notizie di qui sopra, ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.